Arriva il settimo risultato utile consecutivo di cui ben 5 pareggi, non la seconda vittoria di fila per il Gravina che si fa imporre lo 0-0 sul sintetico amico del vicino, da un Francavilla in sinni sempre ostico da affrontare. Meglio i Lucani nel primo tempo più vivaci, i Murgiani nel corso della ripresa, partita nel complesso però poco emozionante. Debutta Ceglie dal primo minuto tra i padroni di casa, torna nell'undici iniziale Bellomonte, mentre Scaringella tesserato in settimana parte dalla panchina, scattano meglio dei blocchi gli ospiti, la Vopa lavora per il cross dell'ex Leonetti, parafacile l'Oliva, il Gravina replica con una conclusione imprecisa dalla distanza di Chiaradia, insiste il Francavilla, traversone di Ciavaria, colpo di testa impreciso di collo-colo e ancora ci prova sempre di testa Pagano, blocca il portiere dei Murgiani prima del riposo, poi pasticcio di Boglic, Santoro prova a beffarlo con un lob, ma non trova lo specchio, duplice fischio, intervallo, cambia l'inerzia della contesa nel corso della seconda frazione, la squadra di Valeriano Loseto spinge maggiormente sull'acceleratore e fa la partita, il mio entrato Scaringella ha una buona idea per Mangiacasale ma l'estremo ospite se la cava, proteste dei Murgiani quando Tarantino va giù in aria ma l'arbitro lascia correre, ancora Gravina, cross di Tarantino in cornata di Mangiacasale, blocca Boglic, lo stesso Mangiacasale poco dopo, non sfrutta una buona occasione per graffiare, l'unico tentativo del Francavilla insieme nel corso della ripresa è questo di Di Giorgio, nulla di più, ci provano sino al termine i Murgiani, Scaringella di testa trova la replica di Boglic, poi i padroni di casa non riescono a trovare il guizzo sugli sviluppi dell'azione, l'ultima occasione capita a potenza ma gli effetti non sono quelli sperati, finisce 0-0 al vicino, il Gravina resta in serie positiva ma fallisce davvero una buona occasione per allungare il margine della zona a rischio.